Oggi la giunta regionale ha approvato il bilancio, 16 miliardi, oltre 16 miliardi di bilancio, tra l'altro con una tempistica assolutamente super efficiente, visto considerato che penso che siamo in assoluto i primi in Italia ad approvare il bilancio e saremmo anche i primi a portarlo in consiglio regionale e quindi si auspica che l'approvazione avvenga, considerando tutte le tempistiche, alla volta di fine ottobre, prima di novembre. Presentate le linee generali del bilancio 2022-2024 della Regione Veneto, un bilancio da 16 miliardi, 9,7 dei quali assorbiti dalla sanità, manovra che guarda la ripartenza per un rilancio dell'economia veneta che con il Covid, ha sottolineato il presidente Zaia, ha lasciato sul terreno un miliardo di spese. Il bilancio delle Olimpiadi con 85 milioni da destinare agli impianti sportivi della Podemontana e del nuovo ospedale di Padova e che copre le spese ordinarie. Come i 31 milioni per la scuola paritaria, i 29 milioni per la formazione, ma anche la capacità di andare a coprire alcune nuove esigenze che si sono appalesate nel corso della costruzione di questo bilancio. Penso ad esempio la nuova programmazione europea che necessita di un maggior coinvolgimento da parte della Regione del Veneto che metterà ulteriori 10 milioni. Ci sono naturalmente all'interno altre novità, ad esempio la copertura per le obbligazioni per le Olimpiadi che è un momento importante che ci vedrà da qui a 2026 creare le migliori condizioni perché questo evento possa essere una grande vetrina per il Veneto. Finanziati anche i contratti dei dipendenti regionali e 22 milioni per la viabilità, un bilancio continuo a Zaia che anche quest'anno non ha messo le mani nelle tasche dei cittadini. Il nostro potenziale di prelevamento è di circa 1 miliardo 179 milioni di tasse all'anno. Moltiplicate 1 miliardo 179 per gli 11 anni di amministrazione, vedete quello che comunque non si è prelevato che sono più di 12 miliardi di euro, quindi se qualcuno ti chiede ma cosa ha fatto la Regione per l'economia, ha lasciato 12 miliardi al sistema economico delle famiglie, delle imprese e sociale.